Ehi ben ritrovati dall'Andrea Link 91 e bentornati su Yoke Watch Puni Puni, video di metà evento. In genere non li faccio mai, ma questa volta come la scorsa abbiamo ricevuto tramite le missioni e tramite il raggiungimento di un certo livello contro il boss, in questo caso il quarto, e anche con dei login giornalieri un totale di 4 monete e un'altra che si può prendere con 20.000 punti amicizia. I punti amicizia si prendono quando andate ad aiutare uno dei vostri contatti che necessita una mano contro il boss o il mini boss di quell'evento. In descrizione comunque trovate sempre i due link utili per tutte quante le missioni dell'evento e come completarlo al meglio. Comunque sia, cosa ho trovato in questo evento? Beh non mi aspettavo di trovare Komasan effettivamente, mi aspettavo di trovare un altro rango SS, ma è uscito lui e a quanto pare effettivamente c'è una variante di Komasan e una variante di Gibanyan. A questo punto speravo di trovare quella, ma invece no. Ho trovato purtroppo un altro rango S che avevo già trovato, che però appunto ho fuso con una sfera di cristallo per creare l'usia far rango Z e quest'altro l'usia far invece è semplicemente di rango S, quest'altra in teoria. Sì su Monster Strike tutte quante femmine, hanno capito tutto. Fatto sta che queste monete possono dare dei buoni yokai, li ho provate su altri due account e mi hanno dato robina davvero speciale, però in quello principale no. Il prossimo evento si sa già cos'è, no, quindi non ho la minima idea. Però sarebbe anche ora di un nuovo evento Scramble, è tanto che non ne abbiamo uno, davvero davvero tanto. Addirittura ancora prima dell'evento di Yo-Kai Watch Gakuen che abbiamo avuto a maggio, aprile, maggio. Insomma, secondo me è ora che torni, anche perché è abbastanza divertente. Comunque per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Ciao! Ciao!